42. Altre quattro umanità. Che cos'è il Logos? Commento. È la forza che emerge dal silenzio che contiene i cosmi. La forza si manifesta come un cosmo e il nostro cosmo diventa l'ambiente evolutivo dell'umanità a cui apparteniamo. 42. Prima di noi hanno raggiunto la loro evoluzione due umanità, Atlantide e Lemuria. 43. Dopo di noi esisterà l'umanità che si può sintetizzare nell'Islam e altre tre umanità. Nell'assoluto i cosmi sono innumerevoli. 43. Questo ci dicono alcuni maestri immateriali sul manifestato. 45. Cosa di te Grazie a tutti